Ciao a tutti, ciao a tutti, questo è un nuovo video, oggi c'è un nuovo video, ovviamente vabbè non vi studio il tempo perché si capirà forse delle macchine che passano, vabbè non vi interessa, oggi giocheremo a un gioco che piace a tutto il mondo, cioè Clash Royale, si Clash Royale, oggi faremo un spacchettamento speciale di Clash Royale, solo che basso, oh l'ho matato, poi lo alzo e si sente, andiamo qui, Clash Royale, Clash Royale, scena per scena, Ah ma è una batalla, d'asci il draghetto dai che faceva una brutta vena sto mangiando lancia la bomba non sto a teponire nu sto a parte di pencille stai basa non sto a parte no 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 che sei un imperatore stesso oh no dai, ti amo, non posso cometer un po' di missions non posso fare un po' di missions non posso fare un po' di missions ah, si! dad e' un po' di più e' invita la occhis e' un po' di più 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 An guria gente questa è che questa è la catarata la era agristina è che la 98 il canter non sociano poco più ommo finisce tra dei vieni, non dei voti ok 7 2 5 4 10 nessuno ha fatto selezionare dai spavoli 1 2 2 3 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 io devo arrivare in arena si non ce la farò mai vabbè vi faccio vedere un altro bel gioco che mi piace oddio è quale aspetta allora quello con i ba ah no fifa 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 diciassettiamo fifa diciassette immobile i 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 E come ho fatto se non vi siete iscritti Iscrivetevi al prossimo video Bella ragazzi Bella ragazzi